ciao a tutti questo è il nostro secondo video diario penso o il terzo secondo è stata diciamo una settimana molto 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 pesante a parte che si nota dal fatto che non ho più voce quindi vuol dire che è stata pesante e poi vabbè la settimana scorsa è andata come è andata e ci ha portato un po di stress in più quindi tutto quello che stiamo facendo sta diventando molto più pesante più il fatto che i ritmi sono più veloci come il nostro amico josada ha detto quindi siamo molto stanchi non proprio scombustolati straniti da tutto quello che sta succedendo non stiamo capendo molto prossimo live sarà interessante e completamente diverso da quello che facciamo fin cioè abbiamo fatto finora però è una cosa che a noi piace molto e ci fa sfogare quindi anche se non è un classico nostro spero possa piacere a tutti e poi niente vuoi dire qualcosa né niente in particolare stavo pensando che ormai ci stiamo abituando a questi ritmi ma tra virgolette perché ogni settimana dobbiamo fare sempre le stesse cose gli orari sono sempre molto strani le cose ci vengono ditte il giorno prima ogni giorno abbiamo un ordine del giorno da seguire ma è sempre abbastanza stancante quindi speriamo che nonostante tutto le prove vadano bene e l'esibizione sarà quella che speriamo per il resto è tutto ok a parte queste cose di stanchezza e andare avanti indietro è tutto normale stiamo con la nostra abba e il squad costantemente tipo qua c'è il nostro quindi è tutto ok spero che non abbiate perso la fiducia in noi su quello che riusciamo a fare su quanto ci deniamo a quello che facciamo perché è la cosa più importante cerchiamo di dimostrarlo ogni live e non voglio che anche se va male l'importante che arriva il fatto che noi lo facciamo con il cuore è che ci mettiamo davvero tanti impegni in quello che facciamo quindi un saluto a tutti e continuate a seguire questo splendido programma e la base squad e la base squad ciao ciao ragazzi se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al nostro canale se volete altri contenuti esclusivi andate a fare un giro sul nostro sito internet se invece volete seguirci in diretta scoprite l'offerta di sky online ciao 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 ciao